Per noi è un piacere essere qui oggi e speriamo che queste informazioni che vi daremo possano essere chiare e utili per poter ascoltare questo periodo quando si presenterà. O magari per chi vi sta accanto e lo sta attraversando. Allora, credo che un po' tutti se avete visto parlare di meno pausa o quantomeno vogliate aggiornare una rivista avete letto questa parola. Cerchiamo però di dare una definizione più precisa di questa fase che si attraversa. Scientificamente la menopausa segna il passaggio dagli anni terzi al nuovo periodo della vita di una donna.